E rieccoci ben ritrovati, siamo in laboratorio, oggi come sempre ormai torniamo con un altro mostro entrato in collezione si tratta di un olmo, ve lo faccio vedere, adesso è 360 gradi e in più oggi piccolo discorso per quanto riguarda per quanto riguarda come capire se la pianta è viva, se il bonsai è vivo perché il mio bonsai perde le foglie, è inverno, è normale, le perde in estate, le perde in primavera oggi vi spiego bene come fare perché sono sommerso, su whatsapp ragazzi non ho più una mia vita e quindi oggi parliamo di questa cosa qui, in più anche punto della situazione sulla nuova offerta Masterclass 2024 così chi vuole avere a che fare ancora con me, chi vuole consigli dal vivo, in diretta con tutta la mia classe tanta roba può entrare nel mondo di chi fa bonsai veramente, quindi basta ciclamini, fiorellini se ne può più dai basta con le cazzate e basta soprattutto neofiti che si spacciano per i professionisti e che continuano a dire ok? quello non è bonsai, quello è piangere davanti a una fotocamera da 5 euro andiamo a vedere il nuovo olmo l'ho battezzato l'urlo di Munch ok? anzi, chi me l'ha dato l'ha battezzato così è una bomba, è una bomba esagerata, fa paura, è un mostro, è un mostro cazzo ok? ed è in vendita ok ragazzi? quindi se vi interessa, se vi piace vi spiego anche le soluzioni che sono possibili su sta pianta perché è un materiale un po' complicato ok? però posso dirvi che come sempre gli olmi anche se non ci capite un cazzo comunque sia vi faranno rami dappertutto quindi tanta roba scusate, anche per far palestra quindi smettete di spendere 90, 100, 100, 100 a fine anno sono 2-3 mila euro cazzo, cioè piantatela di seguire quella gente che gioca che fa le cosine, che fa l'uncinetto che non è così quello non è il bonsai ragazzi quello è vivaismo ognuno porta avanti la propria passione però con la roba lì non è bonsai ok? sono anche stufo di rincarare sempre la dose ma se non ho capito un cazzo ma perché continuate a non capire un cazzo? beh effettivamente sì se non ho capito un cazzo ok ci può stare andiamo a vedere ma che roba ma fa paura c'è un cratere esagerato qua che gli dà super carattere un altro cratere qua guarda che roba ma vi pare? come vedete il tronco va un po' di là quindi sicuramente è un po' da tac da tirare su lievemente poi se questa è la soluzione preferita se no ok? che cioccone ha toccato la lampada ce l'ha il piede? si vede sto trapezio? cioè guardate che cazzo di piede è di che cazzo stiamo parlando? per carità non è perfetto ma ovviamente quando decidete di prenderla il prezzo sarà a vostro favore ovviamente perché io non sono uno sciacallo ok? e questo è di nuovo il fronte vi dico subito una cosa quando mi scrivete se io vedo che tanto non comprate mai ovviamente a un certo punto faccio così col dito qui c'ho il cellulare ok? faccio così tac quando io faccio così col dito andate nelle conversazioni archiviate ok? cosa significa? significa che mi avete dato il cazzo e quindi in quella cartella lì io ci vado a vedere dopo una volta al mese ok? poi vedo e dico ok non ti rispondo di nuovo perché tanto non ho voglia di pugnetta quindi e siete miei clienti bene mi scrivete se non lo siete mi scrivete lo stesso tanta roba mi fa anche piacere conoscervi se invece è un mese due mesi un anno c'è gente che è due anni che mi scrive cioè io guardo io metto il numero sulla mia piattaforma sul mio sito se non viene fuori niente ragazzi per me voi siete niente perché io non ho tempo da perdere non è per farlo stronzo ma io non ho tempo scrivete con gli altri quei coglioni che fanno i video su youtube che non capiscono un cazzo che stanno lì che stanno lì che si scaccolano che l'anno dopo finalmente ho imparato a scaccolarmi con due dita attaccate così ho imparato a infilarmi due dita nel naso così due non una grande passo avanti ok? scrivete a loro vedete poi che consigli vi danno io sono stufo non voglio avere a che fare con gente che rompe solo il cazzo ok? perché il mio tempo è denaro io sono qui per soldi e anche gli altri sono lì per soldi solo che non li fanno semplicemente perché non sanno far buon sei detto questo come si fa a capire se la pianta è viva? polemiche non finiscono allora ragazzi ovviamente quando la pianta vi dà dei segni di anomalia bisogna sempre andare a vedere intanto quali sono le basi cioè dove cazzo è stata coltivata se è stata in casa se è stata di fuori soprattutto anche capire cosa stanno utilizzando cioè che materiali state utilizzando perché ovviamente se comprate una pianta lo vedete in un altro video comprate una pianta da 5 euro non può avere il substrato da 20 euro dentro perché il venditore andrebbe in perda quindi quando una pianta costa 5 euro lasciatela lì fine se tutta quella merda che comprate lasciatela lì a priori perché a un certo punto vi ritroverete con una distesa di ciclamini ma sapete quanta gente ho conosciuto io che si vantavano io ho 300 bonsai cazzo andavo là a vedere a un certo punto ok come sono i bonsai che cazzo sono questi bonsai un vero professionista ha poche piante ma buone poi se avete tempo avete soldi ne avete anche tante ma buone mi fa piacere se ne avete tante ok però sono buone ok perché se no è ne perdi di tempo però come vedete prima cosa da fare se la pianta è sul chivalà toccarla toccate ok toccate il tronco toccate i rami se c'è elasticità ok se c'è elasticità così è un buon segno vuol dire che i rami sono vivi ok se toccate tutta la pianta così e sentite che è fresca è buon segno vuol dire che la pianta potrebbe essere viva ok chiaramente se l'avete tenuta sotto la neve e dopo l'andate a toccare ovviamente sarà fresca però in estate soprattutto quando la toccate ed è fresca quindi non è a temperatura ambiente quindi la temperatura non è la stessa dell'ambiente vuol dire che la pianta è viva se la toccate invece e la temperatura è ambiente ragazzi cammino c'è un cazzo da fare potete concimare la prendete così quello che volete potete fare cammino vuol dire che è secca altro discorso a volte succede che si sbaglia a coltivare quindi magari che ne so date tre volte la dose quattro volte la dose di concime prendete la bottiglia piena non diluite blu 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 così perché siete deficienti e durante prima di avere la pianta secca tutte le foglie allora se è un olmo attenzione potrebbe ributtare ok nonostante la vostra stupidità potrebbe ributtare a quel punto fate un altro no non fate un altro giro per favore perché ha già preso abbastanza azoto e potassio ok e anche fosforo quindi in quel caso lì se è un olmo vi ripeto può ributtare se invece è una conifera tranquilli che è secca secca ok quindi quando avete la pianta che ha tutte le foglie secche però attaccate ai rami cioè che non cadono quello si chiama colpo di secco oppure frustata da super concimazione ma qui eh per questo non fa male anzi tutt'altro fa esplodere la pianta però ovviamente se prendete una scatola di biodoped la rovesciate ovviamente aspettatevi aspettatevi una risposta che non è poi tanto positiva dalla pianta ok quindi attenzione anche con i prodotti mi raccomando poi chiaramente se usate i prodottini quelli che compartenono a queste scritte giapponesi li potete buttare tutto il sacchetto non succede niente la pianta non muore però non va neanche è come buttarci sopra l'acqua l'acqua fresca che lo dico sempre quindi attenzione quando la pianta sta male ovviamente toccatela per vedere già se è fresca oppure no altra cosa come si fa a far ripartire la pianta perché molti dicono oh no la pianta sta male se la concimi bisogna sempre vedere qual è il motivo per il quale la pianta sta male ok per il quale la pianta sembra che stia morendo molto spesso ve lo dico piante stanno male perché ovviamente i materiali sono scarsissimi di qualità scarsissima infima ok ma anche molto spesso perché c'è una carenza guarda caso di micro elementi e anche di macro elementi quindi cosa significa che non avete concimato la pianta oppure l'avete concimata talmente poco che la pianta comunque rimane a seco quindi inizia a disseccare le foglie i rami inizia a durante la stagione vegetativa vi perde qualcosa oppure non va fa dei buttini così poi dopo si blocca e dice ok non c'è da mangiare semplicemente quindi molto spesso il problema c'è in una carenza piuttosto che in un sovradosaggio ok quindi anche quei micro elementi ad esempio nanotech c'è anche il ferrocalato c'è anche il rame gli ho messo anche il rameico dentro una bomba esagerate pure perché i problemi di micro elementi li abbiamo più che altro con le carenze piuttosto che con una sovralimentazione ok quindi chi vi dice è concimato troppo attenzione molto spesso è una stronzata anzi se usate prodotti che non funzionano lì potrete avere dei problemi quindi se avete usato poco concime la pianta potrebbe andare incontro la sofferenza non a morte perché magari non muore ok detto questo però concimate bene e regolarmente perché se no aspettate 3-4 mesi ogni volta che date il concime ovviamente la pianta rimane a secco perché? perché già annaffiamo la pianta in estate tutti i giorni quindi potete capire che acqua 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 si dilava dei micro elementi micronutrienti e tutto il resto ok quindi concimate ogni 2 settimane non ogni 3 mesi diciamo questo questo è lento rilascio vostra sorella è lento rilascio ok questa è la verità perché non capite un cazzo ok quindi prodotti liquidi che devono entrare nella pianta subito così la pianta mangia subito non dopo domani fra 10 giorni ok dopo rinvaso si concima perché anche lì hai rinvasato hai concimato subito la pianta è morta no stronzata delle stronzate che più stronzata non si può io quando rinvaso le mie piante primo giro lo faccio solo con l'acqua giusto per andare a sestare il terreno un po' lo si lava anche diciamo però già chi vi dice ah del terreno devi bagnare sotto devi uscire l'acqua pulita ma che cazzo è ma ragazzi ma metteteci dentro anche un mino bianco allora c'è un po' di detersivo ma cosa sono tutte queste pugnette seghe mentale ma secondo me la pianta muore perché c'è un po' di polvere nel vaso ma che ma sono cioè ma ma dovete aprire un dossier su questa stronzata qui ma un po' di quando esce un po' di roba sporca buona è un pochettino più lavata ok siete a posto non devi stare lì tre ore finché non esce limpida ma dai ma tranquilli ma tranquilli cazzo a parte che se usate biodoped esce sempre sporca l'acqua sempre sporca di marrone ok per il quale è un prodotto che macchia e quindi comunque si tutte le volte esce fuori anche da sotto quindi si può concimare dopo l'arrivato sì la pianta non morirà anzi fatelo fatelo perché il nuovo substrato è inerte non so chi continua a raccontare quella storia della no perché adesso il nuovo terreno ci sono i nutrienti del nuovo terreno che cazzo c'è nel nuovo terreno ragazzi c'è l'azoto nel nuovo terreno ma da quando mai ma che cazzo vi racconta ste stronzate ma perché continuano da retta a sti bambini oppure ha quei babbioni lì che ancora hanno le loro regole della cadama ragazzi la cadama è il terreno più inerte che c'è dentro non c'è un cazzo non c'è né azoto né fosso né potassio né microelementi non c'è un batteri ma no perché i batteri sono piante ma che batteri ma che batteri che argilla cotta nel forno porca troia che cazzo rimane lì dentro ma ve la smettete di raccontare e di ascoltare sempre sto loop sembra sembra la caccia alle streghe Claudio Bonsai quello cattivo noi siamo i bravi sì ma non ci sono le piante non ci sono le piante ragazzi è inutile abbiamo visto prima più di uno che stavo lì metteva il filo parte il filo messo male ramo sottilissimo che tanto non si deve neanche filare perché si rompe terzo la pianta non era da filare non c'erano i rami c'era solo un ramo era lì che legava che cazzo leghi quindi quindi detto questo scusate lo sfogo ma non ne posso più detto questo ragazzi il consiglio che vi do quest'anno è di farvi l'abbonamento masterclass ok 197 euro ascoltate bene ricevete a casa protocollo nucleare che solo quello c'è il valore di 149,90 ok quindi con meno di 50 euro avete un anno di dirette mensili con me e tutta la mia classe siamo in 52 adesso ok 2024 siamo già in 52 ditemi voi se non è un successone ok in più avete gruppo facebook ovviamente perché siete i miei clienti gruppo whatsapp segreto dove sono tutti i miei studenti che vi danno consigli scrivete mandate le foto delle piante vi danno consigli non vi danno consigli dei deficienti gente che segue i miei video che poi prende consigli da me anche in privato ok quindi avete tutto quello che vi serve per capire come cazzo iniziare a fare bonsai perché il livello è bassissimo ve lo posso garantire ricevo foto e foto migliaia di foto tutti 9 su 10 ciclamini amore e ho sputato ciclamini roba che deve prendere vigore deve crescere mi sta bene che avete quelle piante per iniziare a un certo punto una mina come questa va comprata fine perché se no non state facendo bonsai questa è la pura verità ok in più con meno di 50 euro avete anche l'open day l'open day è un evento nel quale gruppi di 5 persone o 6 persone devo ancora farlo bene vengono qua da me in laboratorio una pianta a testa un pomeriggio due ore con me due o tre tre ore pomeriggio con me dove vi spiego cosa dovete fare su quella pianta magari mettiamo il filo ve l'imposto pure e quindi quanto cazzo vale questa cosa ragazzi cioè quanto cazzo può valere questa cosa qui di venire qua da me e sistemare le piante gratis ok quindi invece che rompere sempre il cazzo e invece che piange perché la pianta sta morendo invece che stalkerarmi su whatsapp perché volete l'ennesima informazione ragazzi o comprate oppure smettete di dire non per cazzo perché comunque sia io sono un professionista e così voglio essere trattato ok e tra l'altro sono l'unico professionista qui su youtube come vedete il resto bla 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 non si vedono piante detto questo un saluto a tutti ragazzi iscrivetevi alla masterclass perché l'abbonamento dura un anno se poi vi scrivete fra due o tre mesi perdete due o tre mesi ok vi perdete anche il primo open day semplicissimo ok l'open day è un evento importantissimo ok soprattutto anche le dirette dove potete fare consulenza direttamente con me in video fatevi dalla pianta prendete consigli da me anche dagli altri discepoli tanta roba detto questo un saluto a tutti concimate per quelli che mi chiedono ma io cosa devo usare in primavera miracolo ok oppure questo qua non voglio tirarlo fuori tnt starter bonsai quindi se volete il top miracle nanotech krypton e biodoped sono quattro prodotti da dare insieme per quelli che dicono il chimico fa male sono quattro prodotti chimici da dare insieme è così che ragazzi dovete capirla sta cosa sono sei anni che vi faccio vedere come si fanno le cose che dovete capirla sta cosa finalmente ok oppure tnt starter bonsai anche tnt starter bonsai può essere usato perché è compatibile anche quello con nanotech krypton e biodoped ok tutto insieme tranquilli la pianta vi farà tante di quelle gemme vi esplode tutte le parti e poi quando potate se continuate con questo andazzo vi farà ancora di più il doppio ok perché l'obiettivo è avere più rami della volta prima perché se no state sbagliando a fare bonsai le vostre piante non sono bonsai ma sono pre bonsai quindi smettetela di scaccolarvi e di ragionare tanto stringo bene il tappo perché non si sa mai quando spiegisco i prodotti cioè nel prossimo video ragazzi approfittate adesso dell'offerta masterclass l'anno scorso costava 299 quest'anno ho aperto il gruppo a tutti ok quindi 197 è un prezzo da paura che ragazzi ve lo consiglio e tra l'altro questo mese c'è la prima diretta ho sputtato di nuovo il 26 gennaio alle 20.30 fino alle 22 c'è la prima diretta della masterclass ok vedete di esserci vedete di iniziare seriamente col piede giusto ok è gratis praticamente non rompetemi il cazzo perché è tutto gratis ok ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti